Partirà domani mattina la distribuzione di beni di prima necessità a Ribera, iniziativa attuata nell'ambito del distretto sociosanitario e che riguarderà quindi anche i comuni di Burgio, Calamonaci, Cattolica Eraclea, Lucca Sicula, Montallegro e Villa Franca Sicula. A Ribera le borse spesa con generi alimentari e prodotti per l'igiene saranno distribuite presso la chiesa di Santa Teresa di Via Machiavelli, domani dalle 10 alle 13, dalle 15 alle 19 e negli stessi orari anche lunedì 4 dicembre, agli aventi diritto, ossia tutti i cittadini con un'Isee inferiore a 6.000 euro fino ad esaurimento delle scorte. In collaborazione con le altre amministrazioni, evidenziato l'assessora Rosalia Miceli, abbiamo sottoscritto un protocollo di intesa per l'avvio del progetto, finanziato con fondi del PNRR e abbiamo coinvolto le organizzazioni di volontariato parrocchiali che operano nel territorio, la Proloco Cattolica Reclea e la PS affidataria del servizio, un esempio di come la comunità possa unirsi per affrontare sfide collettive. Questo importante intervento in favore dei nuclei familiari svantaggiati, aggiunto il sindaco Matteo Ruvolo, permetterà a loro di poter avere un supporto ai bisogni primari per poter far fronte alle situazioni di grave disagio economico. La scelta di concentrarsi su prodotti di qualità dimostra l'impegno nell'offrire non solo supporto, ma anche dignità e rispetto a chi ne beneficia. Una significativa distribuzione di genere alimentare a famiglie bisognose della nostra comunità, hanno concluso Miceli e Ruvolo, che mira ad alleviare il peso delle difficoltà economiche che molte famiglie stanno affrontando.